Io credo che il giardiniere sia proprio il mestiere che è più vicino a questo cambiamento dell'ambiente, del clima. È più vicino perché è quello che coltiva, pianta un albero e ne vede lo sviluppo o non ne vede lo sviluppo. È nove volte su dieci la mancanza dello sviluppo determinato proprio dalla pianta che abitualmente ha sempre vissuto in quell'ambiente e che comunque ha dei problemi in quell'ambiente. Allora vuol dire che è cambiato qualcosa. Cambiato qualcosa ce ne stiamo accorgendo tutti, ripeto giardinieri per prime, pensare a un ulivo a Milano 40 anni fa era una follia perché si diceva ma come l'ulivo è una pianta mediterranea, Milano gela e gelava. Adesso se uno prende l'elicottero e gira a Milano, le terrazze, tutto pieno di ulivi, sembra un ulivetto come quelli in Pugliesi, Milano. Vuol dire che il clima è cambiato. Ripeto, ce ne stiamo accorgendo tutti, tutti tranne Trump. Trump non se ne è accorto.